Sono in 11 al via dopo il ritiro di Ballerina Febi, quindi prima fila che rimane con 6 concorrenti, al 2 Bella Ciao, al 3 Brother Jet, al 4 Bode Carell, al 5 Brumagal, al 6 Bob Marley Jet, al 7 Ben Urcigi. Seconda fila per l'8 Brevardzak LG, 9 Boniek SM, 10 Bandito Ben, 11 Baltimore Best, il 12 Bang Bang SBF. Gioco orientato sul numero 10 Bandito Ben, riduce da un paio di vittorie consecutive. Il stato allineamento che si è completato e leggermente discosto Bang Bang SBF, che parte di fatto in terza fila. L'errore allo stacco per il numero 3 di Brother Jet, e allora dalla corda Bella Ciao, cerca di avvantaggiarsi nei confronti di Ben Urcigi, che rimane all'esterno, poi scende in posizione Brumagal. Quindi Boniek SM, mentre cerca di avanzare per linea esterna e Bandito Ben. Completamento della piegata con il numero 7 di Ben Urcigi, che conquista il comando delle operazioni in 29.3 davanti alle tribune. Ora però si riporta in avanti Bella Ciao, che rileva a sua volta il comando. Intanto dalle retrovie avanzano per linea esterna e Bandito Ben e Bandimora Best. 45.600 di gara con Bandito Ben, che giunge al sediolo del Battistrada. Si forma il treno esterno di corsa con la terza pariglia presa da Boniek SM. Metà gara in 1-1 appena abbondante. con ancora il numero 10 di Bandito Ben, che cerca di andare in pressione sul Battistrada. Bella Ciao, quando siamo al chilometro, che la testa della corsa passa in 1.16.6. Bella Ciao per linea interna e Bandito Ben all'esterno. Poi ancora Baltimora Best, quindi alla corda c'è Ben Urcigi e all'esterno Boniek SM. Tutto ciò all'imbocco della piegata conclusiva, dove si scopre in terza corsia Baltimora Best, che cerca di andare sui due di testa. Davanti Bella Ciao, che cerca di divincolarsi all'ingresso e addirittura d'arrivo. Ci provano ancora sia Bandito Ben che Baltimora Best. Ultimi 150 in corsa con Bella Ciao, leader Bandito Ben, che cerca all'estremo assalto per linea interna. C'è anche un tentativo di inserimento da parte di Boniek SM, scusate, che si era provata ad infilare per linea interna. Ma intanto il successo per Bella Ciao e Giuseppe Iodice, che viene così a concludere. Alla primo posto la figlia di Idda, che era Pulissonne, i colori del signor Giuseppe Catuogno. Eccoli qua, gli ultimi metri per il numero due Bella Ciao, che in due minuti e sette decimi conquista il successo. Mentre la lotta per il secondo posto, alla fine, vede il numero 10 di Bandito Ben rimanere in evidenza nei confronti, probabilmente all'interno del numero 9 di Boniek SM, che precede, infilandosi alla corda, il numero 11 di Baltimora Best. Dovrebbe essere quindi il seguente, l'ordine di arrivo, 2 per il primo, 10 per il secondo, 9 per il terzo. È tutto. Grazie. Grazie.